Milanisti, stringiamoci forte, vogliamoci tanto bene perché a maggio passeremo dei momenti duri, dei momenti veramente veramente duri, ma c'è poco da fare. L'Inter batte la Juventus 1-0, vola più 4, con una partita da recuperare e di fatto si cuce mezzo scudetto addosso. Per carità, ancora c'è tutto un girone di ritorno, l'Inter due anni fa nel girone di ritorno ebbe un crollo clamoroso nel mese di febbraio, in cui perse punti veramente con chiunque, quindi nel calcio tutto può succedere, però diciamo che ad oggi non sembrano esserci i propri presupposti per rivedere una cosa di quel tipo. L'Inter dà proprio l'idea di essere una squadra nel pieno della maturità. Anche partite come quelle di questa sera, partite rognose, in cui l'avversario comunque copre bene il campo, prova a metterti in difficoltà, riescono comunque a portarle a casa, riescono comunque a creare tante palle goal, riescono comunque ad essere sempre pericolosi e soprattutto danno sempre l'impressione di essere in controllo. C'è poco da fare, sono la squadra più forte, sono la squadra più solida, la Juventus ha fatto quello che poteva fare secondo me. Io lo so che molti juventini stasera saranno incazzati, perché ovviamente vedranno il dato degli zero tiri in porta e questo farà sicuramente storcere il naso. Però per me la Juve ha tenuto il campo bene, cioè io non ho visto una Juve, come dire, clamorosamente in difficoltà, visto una Juve che ha tenuto bene il campo, ma che di fronte all'area avversaria continua a dimostrare una pochezza veramente incredibile, una pochezza di idee, una pochezza di soluzioni. L'Inter è fortissima in difesa, cioè una squadra che ha preso 10 gol fino ad ora in 22 partite, cioè una squadra che a livello difensivo è senza senso, però la Juve a livello offensivo è davvero poca roba, quindi sì, tiene bene il campo, non sbraga mai, però quando c'è da creare fa fatica, cioè fa veramente una fatica incredibile. Poi sì, l'episodio c'è sempre, perché siamo qui a dirci, se Vlaovic stoppa bene quella palla magari nasce un'altra partita, sì, ma è un episodio in 90 minuti, c'è l'Inter episodi di quel tipo, il controllo sbagliato, l'assist sbagliato, c'è l'Inter nella stessa partita, te ne crea 5-6 almeno, oltre all'autogol di Gatti, quindi troppo poco, troppo poco per poter effettivamente mettere in difficoltà una squadra che ha preso 10 gol in 23 partite, troppo poco, la Juve però, secondo me deve essere contenta fino ad ora del campionato che ha fatto, perché io credo che la Juventus stia facendo un campionato al momento oltre quelle che sono le sue possibilità. Poi sì, è ovvio che non è una squadra scarsa, è una squadra di talento, ha dei giocatori importanti al suo interno, però è una squadra ancora nel mezzo, è una squadra che è ancora un po' ibrida, è una squadra che non sa dove deve andare, non sa ancora come si svilupperà, l'Inter invece è una squadra nel pieno, è una squadra proprio nel pieno della maturità e si vede, la Juve no, la Juve no, è questo secondo posto e questi 53 punti conquistati in 23 partite devono essere motivo d'orgoglio, secondo me, perché, ripeto, la differenza fra le due squadre stasera si è vista, la Juve ha tenuto bene il campo, lo ripeto per l'ennesima volta, però si vede, cioè quando c'è una differenza tra le due squadre, ci si vede, è visibile nel palleggio, nelle giocate, nel controllo, e l'Inter è un'altra cosa al momento, è un'altra cosa, però la Juve nesce con dignità, con dignità, e adesso c'è quella partita in meno, io, però ripeto, adesso vedo veramente complicato, vedo veramente complicato un'eventuale rimonta scudetto della Juve, del Milan non ne parlo nemmeno, più che altro perché questa è la classica partita che ti dà consapevolezza, cioè l'Inter esce rafforzata dalla gara di oggi, la Juve invece prende una botta, perché questa era la partita che potenzialmente poteva lanciarti in orbita, e invece ti lascia lì, adesso bisognerà vedere come reagirà la Juventus, come Massimiliano Allegri riuscirà a lavorare sulla testa dei suoi giocatori, perché quando fai la bocca allo scudetto, quando ci credi e avviene una cosa di questo tipo, il contraccolpo psicologico ci può essere, queste sono partite che per forza di cose vanno a segnare i campionati e sono partite che cambiano un po' la testa dei giocatori, io faccio sempre il riferimento a due anni fa, due anni fa l'Inter, quando perse il derby con noi, con il famoso gol di Giroud, si è girato Giroud bei tempi, l'Inter lì a livello psicologico ha preso una botta incredibile, e da quel derby nacque il nostro scudetto, perché loro non si sono più ripresi, non si sono più ripresi, hanno perso tante certezze, la Juve stasera qualche certezza l'ha persa, i giocatori simbolo come Vlaovic che venivano da un momento magico ti tradiscono, perché Vlaovic stasera ha fatto una bruttissima partita, nervosa, al di là dell'errore lì sul controllo, ma sempre stato nervoso, sempre, sempre, ma in controllo, anche con i compagni, alla fine ha avuto una discussione con WeA, in cui l'ha preso anche a male parole, insomma, ragazzi, non bene, non bene, bisognerà vedere come effettivamente ripartiranno dopo questa partita, e chi lo sa, magari si apriranno spiragli di secondo posto per il Milan, al momento sono quattro punti, c'è ancora uno scontro diretto con la Juve da giocare, chi lo sa, magari in prospettiva, potrebbe effettivamente nascere un discorso di quel tipo, per lo Scudetto, ragazzi, arrivati a questo punto, possono perderlo solo loro, cioè, devono veramente combinare un disastro mai visto, oppure avere veramente tanta, tanta sfortuna dal punto di vista, non lo so, delle squalifiche o di qualcosa, perché al momento non ci sono proprio elementi per vedere un Inter che cade, vuol dire, lo so, gli interisti verranno qua sotto a dire, stai gufando, stai gufando, lo ammetto, un po' sì, però è la verità, secondo me, cioè, al momento non si vedono segnali di cedimento in questa squadra, non c'è effettivamente nulla che ti faccia pensare ad un crollo, ad un calo, cioè, tu spesso e volentieri vedi quelle squadre che, pur andando bene, però, hanno quel punto debole che ti fa dire, effettivamente, potrebbe succedere questo. Io, nell'Inter al momento, il punto debole, non lo vedo, a parte una mancanza di alternative in determinati reparti, a parte quello, cioè, l'Inter al momento non ha realmente punti deboli, non ha realmente punti deboli, quindi, peccato, e poi, chiusura, con un, qualcuno magari non sarà d'accordo, perché già lo so che staranno facendo tutti i fermo immagini degli episodi, staranno vivisezionando ogni singola cosa che è successa, ma stasera, secondo me, va fatto un applauso anche all'arbitro, perché Inter Juve è una partita veramente complicatissima da gestire sempre, e lui l'ha mantenuta sempre sotto controllo, ha fatto degli errori, tipo l'ammunizione di Danilo che non esiste, Vlaovic ha munito dopo quello che poteva essere un contrasto semplice, cioè, però, lui, nonostante qualche errore, la partita l'ha mantenuta sempre in mano, e poi, alla fine, c'è un Inter Juve che finisce senza nessuna delle due squadre che va a recriminare in maniera importante, è sempre un successo incredibile per gli ambiti, quindi, bravo anche Maresca, e che dire, niente ragazzi, questo è quello che penso, complimenti all'Inter, complimenti anche alla Juve, perché, ripeto, almeno per il campionato che ha fatto fino ad ora, nonostante ciò, sempre Forza Milan e ci vediamo domani con nuovi video. Mettete like, iscrivetevi e soprattutto ditemi la vostra qui sotto con un commento. Ciao!